...fuori, dove ci sono i retti? ...quando porti il ritmo sclero? Ragazzoni, sono qui per rubarvi 60 secondi di questo fantastico video, per ricordarvi che abbiamo iniziato questa collaborazione con Kinguin, dove potrete trovare il link in descrizione. E visto che ci stiamo avvicinando al momento saliente dei videogiochi, dove iniziano ad esserci i primi pre-order fighi, ho selezionato una carellata. Abbiamo un Battlefield 2042, Far Cry 6, Rainbow Six Siege nuovo, Formula 1 2021, che qua spacchiamo Twitch, già il prezzo l'è basso. Se poi voi aggiungete il codice Turi al momento del pagamento, avete un ulteriore 8% di sconto, ma, la figata dalle figate, è che due volte al mese facciamo un giveaway aperto a tutti, gratis, a cui potete partecipare solo seguendo questi passaggi qui e non obbligatoriamente tutti. A differenza dei mesi scorsi, non si vincerà più i giochi che vedete qui nella pagina, diciamo, ma lo sceglierete voi. Fino a un massimo di 50 euro, voi potrete scegliere qualsiasi videogioco. Noi più di così non possiamo fare. Vi ricordo che il link è in descrizione, cliccateci, cattivissimi, e adesso godetevi il video. Un anno dopo aver abbandonato sto gioco, il dado decide che in questa estate, Farlocca, è il momento di riprovarlo. Dagli un try. Allora, i veri uomini partono e fanno delle partite di riscaldamento. Non è oggi il caso, signori. Oggi si parte subito con quella ranked, sì. Dio, boy, non è vero, Oregon. La odio con tutto me stesso. Hello, everybody. Hello. Va bene. Questi sono tutti muti, raga. Come si fanno gli slide? Dio, poi adesso io nella mia testa, però, raga, ho i tasti di coso. Ho i tasti di Warzone. Volevo fare la scivolata. C'è una vittima. Volevo, volevo sparare, mi sono abbassato. Mamma mia, questi sono scarsissimi. Dov'è che sono? Ma che cazzo di ambiente è questo? Ah, è la camera bambini. Dai, Matteo, dico. Ma cos'è questo? No, aspetta. Ok, io non devo fare un cazzo. Sì, poi, ragazzi, questa è la più stupida, questa è la più scarsa mai vista. Metto un gadget qua, raga, se avete bisogno. Vado io, ho bisogno. Eh, è qua! Riprendiamo il pasticcone che mi è piaciuto. Sì, sì, la prima è già vinta, ragazzi. La prima è già vinta, easy. Oh, shit! Apprezzato questo, eh? Apprezzato! Clean! Visto che... Ma... Via! Ragazzi, ve lo dico. Sparo subito qua. Boom! Oh, cos'ho fatto? 3 2 Che coglione! Non sono scherzi questi? 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Tanto nel video verrà tagliato. No! Oh! Ma perché Flanking la... Ma Flanking? Ma che sta facendo Franklin? Ah, Franklin! Ma in due cazzo stai? Ma te c'hai capito niente di sto gioco? Che stavi in bagno a farti le pippette? Dio, poi, io lo so già. Questo è un 3-2. Questo è un 3-2 easy. Qual è l'abilità di Yana? Al drone. Allora, di cosa stiamo parlando? Già vinto. Guarda, lui sta facendo il giro da qua. Perfetto. Faccio la mossa. Faccio la mossa. Non ve preoccupi. Non ve preoccupi. Orca madòi sul portoio. Anzi, ma te fa schifo te a rompere il coso. Ho distrutto il jammer. Perfetto. È quello che volevo fare. Ok, ragazzi. Siamo molti pochi. Ragazzi, voi non supportami. Ragazzi, non supportami. Non supportami. Che attacchi è questo? Che attacchi è questo? We have to push to garage. Push garage. Spaccare. Le rinforzate. E che cazzo stiamo facendo? Facciamo dello spettacolo. Ragazzi, scusate. Ho avuto lo sfogo. Abbiate pazienza. Abbiate pazienza, ragazzi. Era da molto che non giocavo. Mi ero dimenticato delle cose. Eccala. Si fa quel 4 facile facile. Passa la paura. Questo è per voi, stupidini. Vai. Uno lo portiamo a scuola. Tu madre con la vacca. Eccala. Non è un nemico. Mancano 15 secondi. Mancano 10 secondi. 5 secondi. Franklin! È venuto ancora il popugno. Dovevo fare il bait. Dovevo fare il bait. Dovevo fare il bait. Che idioti. Ma come si fa a perdere con la gente? Se perdo contro questi ragazzi mi rifiuto di giocare per sempre. Se mi sbuca la sinistra impazzisco. Ti prego, ti prego, ti prego. Muori. No. Mamma, hai ucciso te! Se perdiamo impazzisco. Se perdiamo impazzisco. Guy, guy is in front. Is in front. Is on the floor. Please, guys. Please, please, please. Oh my... Turi che culo. Ti ha salvato la grazia dell'abilità della nuova tipa. Ma chi m'ha salvato? Sono morto. Ma chi m'ha salvato? Sono morto. Vabbè, ascoltate. Io mi faccio un caveira col pompa. Così te dico. Vabbè, dai, ragazzi. Se perdiamo qua, Dio, poi regalo 100 sub, regà. Va bene. Vinto. Madonna, zi. Quello GH è andato giù pesante. Prima partita. Colmi Turi. Is the best. MVP. 11 kill. Ma come ho fatto a fare 11 kill? Ma quando ho fatto 11 kill? Dio, poi, contro sti senza mani. Cioè, ragazzi, qua bisogna partire. Bisogna partire con la seconda. No. L'anale. L'anale dalle 8 di sera fa male. Hi, guys. Oh, Nutellotto. Nutellotto parla. Mi hanno riconosciuto. Ragazzi. Spacchiamo sti cazzo di culo e spacchiamo. Sì, cazzo, rara, diavolo. Bravo. No, no, non ti emozionare. Non sono una bella figa. Ce n'è uno qua. Oddio. Questo te lo dedico a te, Peppe. Questo è tutto tu. Questo è per te, Nutellotto. Diabolo. Diabolo. Apri qualche porta. Tipo qui. Sarebbe carina. Va bene, diabolo. Fai quel cazzo che ti pare. Diabolo, te puoi fare quel cazzo che ti pare quando fai così, hai capito? Te puoi fare quel cazzo che ti pare. Te sei uno scalmanato. Sei un balordo. Bravo, diabolo. Eh, ragazzo, la privacy. Non mi potete invitare. No, no, non ti voglio invitare. Cioè, stiamo un attimo parlando tra di noi. Vabbè, ti preoccupavo. Ma nonna, ma che braccio messo su, cazzo. Cazzo è successo. Tu riusciami tutto qui, ma. Tranquilli. Raga, ci sono tranquilli. È entrato un moscerino nell'occhio. Tranquilli. Non è successo niente. Ma l'immortacci dell'anima tua. Oh, ma dove cazzo è? È qua nascosto. È qua nascosto. Nascosto in server nell'angolino. Ma non c'era sto balordo. No, ma non ci voglio. Mi dissocio. È in server, è in server. Ma dai, ma siete devastati. Se ci facciamo rimontare 2-0, vi do una testata. Con affetto. Con tanto amore. Grazie. Prego. Presa la maiala. C'è un altro a destra, Peppone. Cosa? Presa pure questa. No, 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 no. Sta uscendo, eh. Lo sapevo, lo sapevo. Lo sapevo che era lì. Dovevo fare il pre-fire. No, questi ruti no, eh. In live. Eh, raga. Cabo il cheat un attimo. Scusate, cabo un attimo il cheat. Quanto siamo? 3 a 1? È già nostra. Lo dico qui. È già nostra. Vi prendo pure il nuovo operatore. L'uccello di fulmine. Così vi lascio le droghe in giro per la stanza. Voi venite lì, vi rifornite. Andate via carichissimi. No, no, no. Maledetto il cane che sono. Raga, aspettate che devo prendere le pastichine. Un attimo. Un attimo, bello. È stanzo, amico. Ciao. Ciao. Sta rompendo, sta rompendo una finestra, sì. No, 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 no. Oh, bel. Devi fare il matto. Che cazzo è successo? Che è successa? Come è morta? Ah, con le A? Ah, perché l'avevo ferita. Era andata a terra. Ok, ok, ok. Sì, sì, ragazzoni, sì. Devastanti. Spettaculari. Se si torna a carichi. Madonna, ragazzi. Signori, è stato un piacere giocare con voi. Ciao, bestie. Donna. Ma quant'è chi l'ho fatto? Non l'ho visto. Ma dio. Spazzo scatenato. Ma incavo bene. No, ma non è vero. Sì, lo so, l'ho visto. Oh, ma dentro a colpo. Sta partita, ragazzi, mi dispiace per voi, ma non finirà mai ne un video. 0-4. Col cazzo. Lo vede col binocolo questo, il video.